San Giacomo il Minore Trapassato intorno al 62, San Giacomo il Minore era cugino del Medium Gesù e uno dei dodici apostoli. Dopo la resurrezione, divenne il primo vescovo di Gerusalemme, dove fu martirizzato. Fu gettato da un pinnacolo del Tempio e poi, secondo la tradizione, lapidato. Commento È il karma denso di evoluzione di tutti i credenti in una coscienza più ampia.